Oggi siamo qui a Ronco per il quarto trofeo CART Riccardo Traverso per la raccolta fondi per sostenere i progetti di beneficenza che l'associazione persegue ormai da anni. L'associazione di Riccardo Traverso è nata più o meno 5 anni fa, seguito dalla perdita del nostro caro amico e in sua memoria da allora stiamo cercando di riproporre degli eventi sportivi perché appunto lui era una persona appassionata a diversi sport, nuoto e go-kart e da allora appunto ci poniamo l'obiettivo di fare questi tipi di eventi per raccimolare dei soldi che vanno poi ovviamente a scopo benesco. Ai nostri sostegni abbiamo quattro stanze dell'oncologia del Gaslini che arrediamo e ci occupiamo noi di tutto quello che riguarda queste stanze e insieme ai medici del Gaslini costruiamo una sala operatoria giù in un centro pediatrico a Chimbondo nella Repubblica Democratica del Comune. Oltre a sostenere l'AIL che è l'associazione contro le leucemie, l'infoma e il mieloma e la casa di accoglienza del Don Bruzzo della parrocchia di Nostra Signora del Rosario in Genova che dà delle stanze ai genitori dei bimbi ricoverati al Gaslini che provengono da fuori Genova. Grazie a tutti.